Siamo appena sbarcati a Messina, siamo pronti per andare a San Filippo, amici di Giorgio di Radio Channel, e chi ti becchiamo sulla nave? Ciccio Cosenza, ex roccia della nostra difesa. Ciao Ciccio, stai andando a San Filippo? Sì, siamo andati per la nostra regina, saluto tutti e bocca al lupo. Ciao, ciao, ciao. Grande!